Sì, sì, è una storia vera, tra me questa donna che esiste realmente, che si chiama Ornella Tarantola, è una persona fantastica, che ovviamente è magica, è veramente magica e ti piace subito, è una donna che quando le incontri si innamori, si innamorano tutti, uomini e donne di tutte le età. I miei genitori, per i 50 anni di matrimonio, mi hanno chiesto questa frase, prima di morire ci devi portare a Londra, ti viene un'ansia e ho prenotato dopo un mese, perché ho detto qua, se sei muoio o no, che non sei mai nella vita, poi piangi tutta la vita a dire non li ho portati, per cui prenota sto viaggio. E conoscono Ornella, perché Ornella è già per questa ragione qua. Oh, questi qua, e niente, quando io vado a Londra, perché sono andato tante volte per il libro, e mia madre che è tutta lì attenta, quello you and me e tu, mi fai lo squill e poi mi chiami. No, Whatsapp no, mia madre no. No, ti devo chiamare perché devo salutare Ornella, cioè per dirvi. Ecco, Ornella è una così, che mia madre se ne frega dell'interurbana, o come si chiama, perché comunque per Ornella non si va da spese. Tra l'altro che è una delle frasi tormentone, che collega a me a Ornella, che noi ridiamo sempre, l'avevo messa in un altro libro, perché lei è un fratello medico, ma si può dire, sì, dai, se ne frega, che però, perché è una cosa che la moglie di questo coso non sa, la moglie del medico, sua cognata non lo sa, per questo non diteglielo. Allora, ogni volta che lui va a Londra, ogni volta che lui va a Londra va a casa di Ornella, perché la casa di Ornella è un grande monolocale, ma è un porto di mare, io infatti devo prenotarmi, anche se a volte se io vado, l'ospite lo mette in un'altra casa. Io ho abbastanza diritto di prelazione, tranne con alcuni. Io mi arrabbio molto perché penso di essere al numero due. Quando è nella casa di Bernard? Bernard, oppure si va nella casa della Clara, oppure, sì, sì. Della casa della Clara, del... Della Polità, no, no. Ah, Diego, ma Diego sta a Kilburn, nessuno vuole andare da Diego. Si vuole stare tutti, perché quello è il quartiere un po' gnè gnè, come dico io.